Siamo tornati finalmente sul campo da calcio in compagnia di tutti i mates Dai ragazzi Noi abbiamo degli occhiali che adesso cercherò di farvi vedere Tipo stranissimi L'obiettivo è o segnare o prendere la traversa Ma io stiamo attenti Ma no non è traversa Ma vai io sto Mi capisco dove sta a fare sto bagnone Fuori Il mondo oh mio dio no Dai Stefanino Vai c'è l'ultimo No Non riesco a prenderlo Traversa Destra davanti Ma come fai ma è impossibile Questo video può concludersi qua E noi ci siamo e cado un prossimo video